Evaso dal carcere ha raggiunto la stazione di Alessandri a piedi e lì, presumendo senza pagare il biglietto, ha preso il treno con direzione Milano. Sono questi i movimenti di Besnich Mir, l'albanese di 35 anni, evaso il 17 marzo scorso dal carcere di San Michele, dove stava scontando una condanna a 14 anni e 6 mesi per vari reati, tra i quali rapine e furti. A catturarlo ieri pomeriggio attorno alle 15 in un fabbricato in stato di abbandono, gli agenti della squadra mobile della questura di Alessandria, che sin dal giorno dell'evasione non avevano mai smesso di cercare l'albanese, monitorando i suoi fiancheggiatori, grazie ai quali sono riusciti ad individuarlo nel campo nomadi, dove era arrivato proprio con il loro aiuto. Dalle indagini si è anche appreso che Mir era giunto a Milano per organizzare un piano di fuga all'estero, insieme ad altri connazionali che si trovano già fuori dalle nostre mura italiane e che avrebbero dovuto prelevarlo per condurlo fuori dai confini del nostro paese. L'albanese, grazie al suo comportamento corretto all'interno del carcere di San Michele, era stato scelto per svolgere alcuni lavori all'esterno e il 17 marzo, approfittando del temporaneo guasto di alcune telecamere, si era dato alla fuga. Stessa cosa aveva fatto nel gennaio del 2001, quando era evaso dalla casa circondariale di Macerata. Adesso si trova richiuso a San Vittore, dove certamente la sua pena sarà aggravata. A spiegare i dettagli dell'operazione della cattura sono stati il questore di Alessandri, Andrea Valentino, Antonio Natale dell'ufficio Gabinetto e Marco Poggi, capo della squadra mobile. Le attività dirette al rintraccio dell'attitante sono state particolarmente complesse. Si è trattato di scandagliare e sviluppare tutti i potenziali fiancheggiatori dell'attitante e l'attività ieri è giunta a buon esito grazie agli sforzi della squadra mobile Alessandrina, che è stata strettamente collaborata dalla squadra mobile milanese, dal commissariato di Mecenate, e dal personale del reparto mobile di Milano e del reparto prevenzione e crimine di Milano.